la seduta è valida e aperta perché il segretario ha già visto le presenze dei consiglieri a meno che non rientrino scrutatori direi, baciglieri, cima e larghetti partiamo dai verbali chiedo se ci sono problemi o diamo via libera non vedo mani alzanti, quindi passiamo alle dichiarazioni di apertura consigliera Panzacchi riguardo la situazione SP Fondovalle Savena Buon pomeriggio colleghi e colleghe ne approfitto per fare gli auguri a tutte le colleghe presenti allora io voglio esprimere oggi un po' di preoccupazione rispetto a questa situazione della Fondovalle Savena che è una strada provinciale che purtroppo è franata mercoledì scorso a seguito degli eventi della neve sostanzialmente e la strada è chiusa appunto da mercoledì scorso però se apparentemente ad una prima visione appariva un lavoro abbastanza agevole di 7 barra 10 giorni come comunicato dai tecnici della città metropolitana e come anche uscito su un comunicato stampa della città metropolitana che parlava di riapertura della strada entro la metà di marzo in questi ultimi giorni si è evinto che il problema è molto più grave di quello che appare per cui non sono più sufficienti le sole opere di disgaggio che si pensava fossero appunto utili a riapertura seppure con un semaforo a senso unico alternato adesso pare che la problematica sia molto più ampia quindi ci voglia una progettazione più complessa e un intervento anche economico decisamente più importante io sottolineo come questa strada per i comuni della valle del saveno soprattutto quelli dell'appennino e per noi quella struttura infrastruttura viaria è fondamentale strategica per tutti coloro che fanno i pendolari per tutti coloro che devono andare in ospedale per tutti coloro che tutti i giorni fanno avanti indietro per venire a bologna noi dobbiamo percorrere la futa in questi giorni e per noi vuole dire 20 minuti in più andare 20 minuti in più a tornare per cui chi tutti i giorni deve venire giù è chiaro che acquisire risparmiare del tempo viaggio in a in altro sarebbe opportuno io ricevo delle segnalazioni tutti i giorni dai miei cittadini quindi rivolgo qui un'istanza di attenzione rispetto a questo tema chiedendo eventualmente anche di istituire un tavolo con città metropolitana comuni interessati e regione per far sì che oltre ad avere un piano di lavori corretto rispetto a quello che si è vinto in questi giorni quindi che il materiale sta continuando a franare e per cui non è più sufficiente solo il disgraggio ma ci vuole un altro tipo di intervento e anche per la tempestività dell'intervento perché per noi ogni giorno che passa è veramente un danno non indifferente e quindi chiedo attenzione rispetto a questo tema ne ho già parlato ovviamente col consigliere delegato cresci in beni l'ho fatto oggi perché le notizie diciamo un po di di aggravamento della situazione mi sono pervenute questa mattina io riporto le istanze sia dei miei cittadini ma anche dei cittadini dei comuni limitrofi e anche degli amministratori dei comuni limitrofi grazie grazie consigliera ora la parola al consigliere delegato cresci in beni sul medesimo tema in aggiunta su sp325 opere complementare al passante buonasera a tutti a tutti e tanti auguri per l'otto marzo alle donne anche se come ci siamo detti servirebbe un otto marzo un po' tutti i giorni dopo di questo penso che sia opportuno anche dalla soddisfazione del sindaco oggi ma anche quello che è venuto fuori un po' in questi questi giorni qua a fare un aggiornamento su tre situazioni che penso che siano di importanza e di attenzione per tutti noi anche per dare uno stato di aggiornamento quindi partiamo dalla situazione della fontovalle credo che come tutti sappiamo la situazione del territorio è una situazione che necessita di interventi sia la parte pubblica che la parte privata e quindi è uno dei problemi che abbiamo in italia quindi sul quale è importante investire la situazione appunto in questo caso specifico è stata valutata dai tecnici la ditta quasi completato diciamo ha praticamente completato i propri lavori preliminari i tecnici della città metropolitana hanno ravvisato una situazione non congrua alla riapertura anzi hanno rilevato eh determinati importanti problemi per cui hanno chiesto un intervento a un geologo che in settimana eh farà un sopralluogo e determineranno assieme i lavori da fare se serviranno lavori come i tecnici della città metropolitana poi semmai eh speriamo che non sia in eh ci sia un errore ma invece eh la situazione sia migliore migliore rispetto a quello che stanno ravvisando quindi dopodiché eh come dice come chiede anche il consigliere sindaco Panzacchi sarà necessario se la situazione richiede fare degli investimenti urgenti penso che dovremo intervenire o col fondo di riserva o con altre tipologie comunque attuare procedure eh diciamo estremamente cedere per riuscire a a risolvere il problema qualora ci dovesse essere avvisato e consistente eh l'altro tema che mi premo un po' sottolineare è quello della SP325 la cosiddetta Gardelletta che eh è una di quelle strade uno di quei territori dove abbiamo fatto più volte sovralluoghi eh ci tengo a sottolineare che i lavori non sono fermi però purtroppo dal mio punto di vista stanno andando estremamente lenti penso che l'ufficio condivida la stessa preoccupazione così come i sindaci del territorio non a caso ci ritroviamo eh venerdì penso che la ditta che è impegnata con un po' di sforzo potrebbe eh accelerare i lavori presenti e quindi arrivare a breve un risultato quindi questo sarà quello che vedremo anche in questo caso con una riunione di venerdì eh l'altro tema che invece eh ci tengo a rilevare anche perché ne abbiamo discusso in questa sede è quello delle opere collaterali al passante tutti siamo preoccupati vediamo le notizie che eh anche se lo stadio zero sta partendo il le opere del passante quindi tutti noi ci siamo chiesti se quelle opere collaterali avverranno nei tempi che ci sono stati dati da autostrade come eh cronoprogramma eh è passato un governo da cinque mesi in piedi di un altro governo pochi giorni fa ho colto l'occasione proprio nel territorio di Casalecchio per l'asse attrezzato di parlare con con ministro penso che sia al corrente quindi ma accennato anche lui eh dell'importanza di queste opere ho chiesto qualche mese scorso un incontro a regione e autostrade ci vedremo la prossima settimana spero che anche l'attenzione del ministro su questo caso particolare visto eh le necessità che ci sono in quel territorio e potrebbe essere influenzato ulteriormente al passante nord eh di sollecitare un po' autostrade su questo passaggio quindi ci tenevo a darvi lo stato dell'opera di queste tre situazioni e naturalmente vi terrò aggiornate qualora ci dovessero essere delle problematiche eh su uno delle tre casistiche che qui ho detto buona giornata e buon consiglio grazie consigliere ora abbiamo eh alcune delibere approvazione manuale della segnaletica per la bicipolitana rete ciclabile Bologna metropolitana e consigliera delegata Larghetti grazie eh abbiamo già affrontato in commissione la natura di questo documento che andiamo oggi ad approvare ci sembrava giusto fare un passaggio anche in consiglio perché è uno dei tanti tasselli di composizione della strategia della bicipolitana che è una parte importante del Pums su cui stiamo investendo tanto ed è importante che investiamo non solo dal punto di vista infrastrutturale ma anche da tutti quei diciamo servizi ed elementi collaterali che contribuiscono come dicevamo oggi in commissione a rendere fruibile l'opera abbiamo appreso appunto che eh la stiamo eh anche attuando eh come come insieme di segnaletica coerente su tutto il territorio metropolitano eh sull'asse Reno Galliera in particolare e sulla eh sul rettilineo Navile Mare che coinvolge gran parte del nostro territorio metropolitano eh in quanto sviluppa eh il percorso storico della ciclovia del Navile in direzione mare anche oltre ovviamente i confini della città metropolitana di Bologna eh dato che non ci sono state questioni sollevate in commissione credo che anche avendolo presentato in conferenza metropolitana dei sindaci tutti conosciamo questo strumento e spero veramente che possa essere utile eh come insomma strumento in più anche per tutti i cinquantacinque comuni che compongono il territorio grazie grazie consigliera ci sono interventi da parte di altri consiglieri bene allora dichiarazioni di voto mettiamo ai voti la votazione è come sempre doppia perché è prevista anche l'immediata eseguibilità leppure accorsi baciglieri bassi bertoni bittini carapia aspettiamo un secondo perché favorevole favorevole grazie c'è lì cima crescimbeni fabbri sì ok larghetti quanto vanni espresso in chat panzacchi polazzi santoni non è rientrato veronesi quindi la proposta è approvata all'unanimità così pure la immediata eseguibilità toglielo bene ordine del giorno si è pervenuto dagli uffici agli uffici da parte del gruppo bologna metropolitana centrosinistra questo ordine del giorno dopo la convocazione è stato inviato i consiglieri per mail all'integrazione dell'odg della seduta odierna dato il carattere dell'urgenza l'associazione avviso pubblico di cui la città metropolitana di bologna e soci ha chiesto la trattazione all'oggetto entro il mese di marzo 23 l'ordine del giorno è stato discusso nella seduta della commissione consigliere odierna ed è stato modificato con la sottoscrizione in qualità di coproponenti anche da parte del gruppo uniti per l'alternativa dopo la presentazione da parte del consigliere adesso apriremo il dibattito e lo porremo in voto si tratta dell'ordine del giorno del gruppo bologna metropolitana al quale è aderito anche il gruppo che ho citato oggetto appello per il riordino del settore gioco d'azzardo consigliere Cima Sindaco, l'abbiamo già descritto in commissione per cui molto brevemente riassumo per sommi i capi l'associazione avviso pubblico ci ha sollecitato nella presentazione di quest'ordine del giorno relativo come obiettivo al riordino, alla legge di riordino di tutte le varie elementi che compongono la legislazione sul gioco d'azzardo complessa esistono numerosissime forme di gioco d'azzardo in Italia è un intimo comparto che ormai vive da anni su proroghe ed eroghe delle concessioni in essere che sappiamo tutti quali sono le conseguenze dell'abuso del gioco d'azzardo oltre alla ludopatia una grossa influenza sul gioco anche dei minori oltretutto la pericolosità è quella della possibilità di utilizzare il gioco d'azzardo come forma di riciclo di di denaro da parte del crimine organizzato un sistema che in questo momento è come dicevo prima vive su una serie di idee dei permessi che prevedono e richiedono una legge di riordine del settore anche eventualmente a discapito delle entrate reali e sappiamo benissimo che il problema del gioco d'azzardo è soprattutto legato al fatto che costituisce un'entrata importante per le casse dello stato e questo comporta tutta una serie di resistenze al suo riordino come ci dicevamo eh in presentazione in commissione il gruppo uniti per l'alternativa ha chiesto di confirmare l'ordine del giorno e quindi al momento insomma possiamo possiamo dire di andare al vuoto su questo su questo schema diciamo grazie mille bene ci sono interventi grazie sindaco e buongiorno a tutte e a tutti molto brevemente solo per appunto confermare quanto rappresentava il consigliere cima rispetto all'adesione del gruppo uniti per l'alternativa e ringrazio il gruppo maggioranza per aver accolto la proposta di condividere la la presentazione e la proposta di avviso pubblico è stata molto qualificante e credo che sia stata una ottima iniziativa quella di avere portato il consiglio metropolitano e quindi anche aggiungendo il punto alla seduta già prevista anche per stare nei tempi richiesti da questa importante organizzazione settimana scorsa è stata fatta una commissione congiunta dove si sono toccati diversi temi collaterali al tema della legati alla legalità tra cui anche il tema del gioco d'azzardo delle ludopatie delle possibilità di infiltrazioni mafiose che sono uno uno dei tanti temi e problematicità collegate correlate a questo macro tema che ha un costo sociale enorme e credo che sia nel rispetto delle posizioni di ciascuno chiaramente necessario anche dire che lo diceva proprio in commissione il signore cima non le risposte per quanto è importante che ogni livello dia dei segnali non possono essere risolutive quelle fatte ai livelli inferiore al legislatore nazionale nel senso che sono importanti l'esperienza ad esempio della regione media romagna è sicuramente qualificante però da sola non da l'adeguata copertura ad un tema che invece necessita di un processo di riordino come viene indicato nell'ordine del giorno assolutamente necessario ci saranno sicuramente delle resistenze ci sono sempre state è un mondo di legittima lobbying molto potente molto trasversale anche va riconosciuto e quindi credo che vediamo che sia anche opportuno nel piccolo segnale che potrà dare che sicuramente non sposterà nulla però che ci tenevamo particolarmente a rappresentare il fatto che ci sia un auspico una condivisione complessiva perché credo che su questo dobbiamo essere assolutamente uniti e dare i segnali che servono grazie altri io no era solo una dichiarazione che ovviamente voterò favorevole in quanto ovviamente sul territorio vediamo quanto questa piaga che quella del gioco d'azzardo sia una vera propria dipendenza che mette in difficoltà anche molto spesso le famiglie delle persone che sono dedite a questo tipo di dipendenza per non mi viene da definirlo in altro modo quindi è necessario che le istituzioni lavorino unite per fare tutto il possibile in questo contro gioco d'azzardo e come si fa anche contro le altre dipendenze Grazie Grazie signor Sindaco, cari colleghi, concordo su quanto è scritto nel documento in parte, soprattutto quando si richiama la necessità di riorganizzare e omogeneizzare tutta la parte normativa, effettivamente è uno dei problemi principali che affligge il mondo del gioco legale. Però come dicevo non condivide totalmente il documento perché affronta il tema del gioco legale anche con un approccio ideologico che quasi va a criminalizzare il gioco legale e penso che proprio la criminalizzazione del gioco legale sia l'approccio più sbagliato per contrastare le problematiche sociosanitarie che sono state anche citate in precedenza. Pertanto, seppur in parte condivisibile questo documento, non riteniamo opportuno esprimere un voto favorevole ma ci limiteremo a un voto di astensione. Grazie. Grazie. Altri? Astensione. 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 Grazie. Celli. Cima. Crescimbeni. Fabri. Larghetti. Mantovani. Favorevole. Parere favorevole. Pannieri assente. Grazie. Panzacchi. Polazzi. Santoni. Non è rientrato. Veronesi. Li abbiamo uno, due, tre, quattordici voti favorevoli e due astenuti. Delibere approvato. Sì, l'ordine del giorno è approvato. Grazie. Passiamo alle interrogazioni. La prima, la risposta scritta dal consigliere Polazzi, Alleanza Metropolitana, che ha per oggetto chiusura laboratoria analisi di Budira, Loiano e Vergato dell'Asla di Bologna. È pervenuta risposta da parte mia. Quindi cedo la parola del consigliere Polazzi. Grazie, signor Sindaco. La risposta che ci ha dato può essere risunta con chi ci ha soddisfatto perché abbiamo ricevuto l'allegato che ha fornito l'Asla di Bologna e in particolare il dottor Bordone, se ricordo bene, Paolo Bordone, abbastanza esaltiva, anche se su alcuni riferimenti che il dottor Bordone ci scrive siamo rimasti alquanto perplessi. Il tema sarà trattato nuovamente con altri atti ispettivi e cui faremo trasmissioni in futuro. Grazie. Quindi le altre interrogazioni che avevo vanno iscritte alla prossima seduta e quindi non ho altri temi all'ordine del giorno. Vi ringrazio e vi saluto. Grazie. 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 Grazie.